Buongiorno mamma, stiamo bene. Georgette sa contare fino a 25. 24, 25, 42. E Ederica... Fanny, dove sei? Non è più appiccicosa. Fanny! Ti abbracciamo forte forte. Vorremmo vederti. L'arresto di Mussolini! Hanno arrestato Mussolini! Tutti i bambini devono partire al più presto. Adesso dovete seguire Fanny. Tu hai la testa dura, ed è un bene avere la testa dura. È per questo che ce la farai. Non possiamo raggiungere la Svizzera da soli, è troppo rischioso. Con i miei soldi potremo trovare un accompagnatore. Di chi possiamo fidarci? Quindi facciamo il gioco dei biglietti? Possiamo stare qui per un po'. Solo stanotte e domattina ve ne dovete andare. Possiamo contare solo su di noi. Siamo furbi e siamo tanti. Siamo furbi e salvati. Ciana! Reality! Grazie a tutti.